Buongiorno, buongiorno ai nostri amici social, visione all'ascolto di una nuova puntata di SOS Coronavirus, la regione in ripartenza. Parliamo di ordinanza, l'ultima emanata dal Presidente della Giunta regionale è l'ordinanza numero 74 del 14 giugno. Introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e riguarda l'approvazione di ulteriori protocolli di sicurezza e modifiche ad alcuni dei precedenti protocolli relativi all'ordinanza 70. Che cosa contiene questa ordinanza? I protocolli di sicurezza per le sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, i protocolli per convegni, congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili. Protocolli anche per cerimonie, tra cui matrimoni, protocolli per discoteche all'aperto. Quindi i presenti protocolli di sicurezza contengono gli indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori. In particolare ogni protocollo di sicurezza prevede diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing. Inoltre le indicazioni contenute nei protocolli di sicurezza si pongono in continuità con le indicazioni di livello nazionale con particolare riferimento al protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno, nonché ai criteri di guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici. La Regione Abruzzo in fase di prima applicazione di questo recente quadro normativo approva i protocolli di sicurezza contenuti nel documento con l'impegno a dimanarne altri man mano che solgano esigenze di carattere territoriale tali da non potersi accontentare dell'operatività residuale delle linee guida adottate a livello nazionale. Tali protocolli concorrono altresì a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell'utenza coinvolta nelle attività produttive. È necessario che i principi di declinazione di protocolli condivisi di settore tengono conto della coerenza con la normativa vigente, incluso il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, aggiornato al 24 aprile scorso ed attualmente recepito nell'allegato 12 al DPCM del 11 giugno. Nello specifico, in coerenza con quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno, i principi cardine che hanno informato e informeranno i presenti i futuri protocolli di sicurezza della Regione Abruzzo sono i seguenti. Il distanziamento sociale, mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro, la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti, la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale ed ospedaliera. Tali protocolli prevedono e prevederanno specifiche misure di sistema organizzative di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative, declinate sullo specifico contesto produttivo e di vita, tenendo presenti i seguenti criteri, anche facendo riferimento ai documenti allegati al DPCM del 11 giugno e ai documenti di indirizzo prodotti da Istituto Superiore di Sanità e INAIL. Quindi parliamo del rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nel signore realtà e nell'accesso a queste. La prossimità delle persone, ad esempio lavoratori, utenti, rispetto a contesti statici, per esempio persone tutte ferme in postazioni fisse, dinamici, persone in movimento o misti, contemporanea presenza di persone in posizioni fisse o di altre in movimento. L'effettiva possibilità di mantenere l'appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati, il rischio connesso alle principali vie di trasmissione, quindi droplet e contatto, in particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto, la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene dalle mani, l'adeguata aerazione degli ambienti dal chiuso, l'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici, la disponibilità di un'efficace informazione e comunicazione, la capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli. Le 36 sezioni dell'allegato relativo agli specifici protocolli di intesa sono consultabili al link che vedete nella grafica, qui ci sono tutte le specifiche, tutte le particolarità relative ai vari settori interessati dall'ordinanza. È tutto per oggi, un caro saluto ai nostri amici social, arrivederci alla prossima puntata.